Filippo Fracaro, una brutta sconfitta domenica, da qui come si riparte? Sicuramente lavorando duramente la settimana, comunque pensando già alla partita di domenica prossima contro il Monza che è molto importante per rialzare la testa e cercare di puntare al massimo. Quella di domenica scorsa era una sfida che contava molto ai fini della classifica, davanti continuano a correre, si è allungato qualcosa, bisogna recuperare adesso? Certamente bisogna recuperare punti perché sennò si rischia di perderle le prime, quindi bisogna cercare di fare i tre punti domenica per riprendere il cammino e cercare di recuperare punti. Sì, tra l'altro domenica prossima arriva il Monza in casa, altra squadra molto tosta che necessita di altri punti buoni, quindi sarà una battaglia anche domenica? Certo, sarà una battaglia, però sicuramente se le affrontiamo nella maniera giusta speriamo di portare a casa il massimo risultato. Ibri Anzori che domenica non avrà una disposizione Gasbaroni, quindi diciamo una nota positiva sicuramente perché è un gran giocatore, ha giocato in Serie A, quindi si poteva mettere in difficoltà sicuramente. E poi c'è da rivalersi anche su quella sfida dell'andata dove il Bassano... In maniera locambolesca abbiamo perso nei minuti di recupero, comunque penso una sconfitta immeritata tra l'altro perché avevamo espresso comunque un buon calcio anche a Monza. Mister Claudio Rastelli, parliamo della sconfitta domenica scorsa contro Renate. Quanto è inciso a livello mentale e psicologico dei ragazzi? Ma come tutte le sconfitte, sicuramente se non avessimo perso si sarebbe lavorato meglio, con più serenità. Ma queste sconfitte ci devono anche far crescere e capire dove stiamo sbagliando. Anche se onestamente domenica abbiamo fatto una buona gara, invece nella prima parte. Però se una squadra comunque non porta a casa punti, qualcosa come errori sta commettendo. Per cui abbiamo ragionato su quello che possiamo fare per migliorare. E c'è la massima volontà da parte di tutti per poter ricominciare a fare quello che siamo abiti a fare. Abbiamo visto in queste prime due partite una preparazione fisica che forse è un po' pesantita, anche magari dal lavoro fatto durante le feste. Può essere questo magari uno dei punti che col tempo magari si andrà a migliorare? No, come tutte le squadre abbiamo lavorato, ma non tantissimo. Io dico sempre che se una squadra corre bene, rimane compatta, corre meno. Molto ovviamente in questo momento siamo una squadra che difende sui spazi ampi, attacca con poca gente e naturalmente in questa maniera ci si allunga. C'è da coprire spazi più ampi, per cui la condizione fisica a quel punto manca, ma perché si vuole male. Ultimamente si subisce troppi gol rispetto a quanto se ne fanno, quindi c'è forse da migliorare un po' la fase difensiva e magari a presentire quella offensiva? C'è da migliorare la fase difensiva della squadra, perché in questo momento non stiamo difendendo come difendevamo due mesi fa. È normale che poi andiamo in difficoltà contro chiunque, per cui dobbiamo ricapire che forse per attaccare bene, prima di tutto si deve difendere bene. E poi, come ho sempre detto, questa squadra ha la qualità quando attacca per poter rimettere in difficoltà gli avversari, però prima dobbiamo difendere bene. Domenica arriva il Monza, squadra tosta, il Monza ha bisogno di punti, quindi sarà una partita dura anche quella di Domenica? Una partita difficilissima, anche perché il Monza senza penalizzazione sarebbe, penso come noi, un punto, due punti sotto. È una squadra giovane, una squadra che ha voglia di dimostrare che i giocatori, anche i giocatori stessi vogliono dimostrare che possono ambire a categorie superiori. È una squadra piena di entusiasmo, corre tantissimo, per cui sarà sicuramente un test importante. In questo momento noi pensiamo di avere giocatori importanti, forse questo è il momento che i giocatori importanti tirano fuori tutto quello che hanno per poter fare la differenza. Un'ultima cosa, i punti della vetta sono diventati sette a questo punto di distanza. È vero che ci sono tante partite, ma forse da qua in avanti tutti i punti sono importanti, quindi lasciarne il meno possibile per stare. Ma sicuramente noi abbiamo quasi raggiunto il massimo di quello che potevamo fare un mese fa. In questo momento stiamo un po' pagando questa rincorsa, anche se non è ammissibile che una squadra in qualche maniera ceda, specie quando è di rincorsa. Per cui perdere punti in questo momento, le partite sono sempre meno, significa perdere doppi. La squadra si deve mettere in testa, noi ci dobbiamo mettere in testa che ogni occasione in questo momento lasciata è un'occasione persa doppia. Grazie. 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 Grazie.